Siamo tornati, siamo sempre in compagnia di Dave Gunn, tra l'altro stiamo per salutarlo, anche perché lui ha degli aerei da prendere nell'ordine Madrid, poi andrà a Parigi. Però insomma, è stata una piacevolissima intervista, poco fa c'è anche detto che il video che abbiamo appena visto di Kingdom è stata un'anteprima assoluta, nel senso che lui ancora non l'ha presentato e promosso da nessun'altra parte, per cui è stato un grandissimo onore. Are you coming back in Italy for any tour? I have no plans to do any tour in at the moment, but I'm not ruling it out, so hopefully, maybe at some point, something will happen, but I should imagine I'll be coming back to maybe do some more promotion, but at the moment I'm just enjoying having finished the record. Yeah, which is great. Ok, dice no, ancora non ho programmato niente per quanto riguarda il tour, ma non lo escludo neanche, è sicuramente, è probabile che io ritorni qui ancora per la promozione del disco, per il momento mi godo questo momento, che è un bel momento, ho appena finito il mio nuovo disco, ed è molto. Allora, non lo lasciamo andare via così, ci facciamo sicuramente una foto con Dave. Noi ci fermiamo per pochissimo, c'è la pubblicità e torniamo fra poco a community in diretta. Bye, Dave! Bye, bye! Bye, Dave!